Allora, per parlare della cava bisogna fare l'ultimo passaggio del discorso che vi ho fatto precedente, cioè l'ultima formazione di cui avevo parlato era il calcare del soccer. Uno degli aspetti del calcare del soccer è questo famoso rosso ammonitico, che in parte si è formato nel giurassico e la grossa parte nel cretacico. Il rosso ammonitico è una pietra che viene chiamata anche ramello rosso di Erto, è una pietra da costruzione e veniva estratta dalla cosiddetta cava di Buscada. La prima cava era stata aperta ancora nel lontano, nel 1953. Successivamente la cava attuale è stata aperta nel 1957 e lì è stata fatta questa costruzione che poi verrà utilizzata recentemente per l'edificazione del rifugio del Casera Buscada. Successivamente nel 1962 è stata fatta un primo tronco di strada fino all'area sottostante alla cava, da dove appunto queste pietre da cava venivano portate a valle attraverso una teleferica. Successivamente nel 1977 è stata costruita la strada attuale bucando proprio il Monte Palazza attraverso una galleria e quindi trasportando con autocarri a tre assi il materiale di cava. Il materiale di cava che aveva un pregio notevole, nel senso che è stato utilizzato, veniva avviato, pensate, sia verso Massa Carrara, nota terra dei Marmi, sia verso gli Stati Uniti. Ed è servito per fare diverse opere, essenzialmente opere di palmetazione, camminetti, colonne, eccetera. Ed è un materiale molto apprezzato. Poi successivamente, a partire, la coltivazione negli ultimi anni era fatta in maniera abbastanza saltuaria. Per interrompersi del tutto nel 1994, quando poi è stato avviato il progetto di recupero da parte del... anche grazie, diciamo, alla collaborazione del parco. E successivamente, negli ultimi anni, dal 2007 al 2010, la famiglia Corona, il cui padre aveva lavorato nella cava, ha acquistato tutta l'area e, direi, visti i tempi, anche con grande coraggio, ha creato questa struttura che vi invito a visitare. È un rifugio, appunto, escursionistico a 21 posti a letto ed è posto all'interno della cava, appunto nell'ex costruzione dei minatori e lì sono stati creati dei sentieri geologici e paleontologici anche che possono essere utilizzati anche con l'aiuto di una guida, eventualmente. Ecco, si tratta di un luogo particolare. Ci si può arrivare percorrendo la pista di servizio, vero? Che dal parcheggio di Casera Mela praticamente conduce su in un paio d'ore, credo, forse anche meno. Esatto, e beh, esistono, in realtà esisterebbero tre possibilità. Questa è, diciamo, quella più facile. Una, diciamo, un po' più lunghetta, parte direttamente da Erto per passare sotto le pendici del monte, appunto, del monte Borgà e successivamente traversare e forse quella più suggestiva, ma anche quella che sarebbe quella più faticosa, è partire da Casso, arrivare alla Forza del Piave, da lì passare attraverso i libri di Sant'Aniele, questa famosissima, peraltro, sempre struttura rossammonitico, che a differenza del rossammonitico della cava, è formata da lastre, quindi è una situazione abbastanza particolare, che richiama poi la leggenda di Daniele, protettore dei viandanti, e da lì, volendo, si può scendere. Purtroppo bisogna perdere 200 metri di quota, ma se un allenato lo consiglia vivamente, da qua risalire e arrivare direttamente alla cava. Grazie. Grazie. Grazie.